Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera e ben ritrovati al TG Plus News di Treviso. La Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno che viene applicata ai soggetti che effettuano pernottamente nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere della nostra città. L'adeguamento delle tariffe è stato approvato per le annualità 2023-2024-2025 e vuole contribuire a sostenere i servizi locali per residenti e non residenti nell'ottica della nuova dimensione turistica assunta da Treviso negli ultimi anni. Ma io vi rimando al nostro articolo di approfondimento su Notizie Plus con le dichiarazioni del sindaco Mario Conte e dell'assessore al bilancio Riccardo Barbizana. Articolo come sempre potete leggere cliccando su link e vedete la descrizione della news sotto il video del TG. Ancora una volta gli alpini si dimostrano campioni di solidarietà e vicini alle persone in difficoltà. Graziano Tonon, accompagnato da Giancarlo Gentilini, ha infatti consegnato nel corso di una cerimonia ospitata dal direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi nella sede di Villa Carisi, un assegno del valore di oltre 1.500 euro a Mauro Vettorello, presidente dell'associazione Oltre l'indifferenza Ollus di Pontanelle. Anche qui l'articolo di approfondimento con in particolare le graditissime ovviamente dichiarazioni di Giancarlo Gentilini che come sappiamo è stato oltre che sindaco e vice sindaco a Treviso anche penna nera di lungo corso su Notizia Plus. Andiamo alla cronaca, una casa al civico 1 di via Piccoli a Vittorio Veneto è stata avvolta dalle fiamme oggi nel primissimo pomeriggio in un incendio le cui cause sono ancora oggetto di accertamento. Secondo le prime informazioni sembra che l'incendio abbia avuto origine nella camera da letto dell'abitazione. La situazione è stata resa ancora più preoccupante dal fatto che al momento dell'incendio all'interno della casa c'era una donna. Fortunatamente però nonostante l'intensa attività delle fiamme la donna è stata soccorsa tempestivamente e sebbene sia rimasta intossicata dal fumo non risulterebbe trovarsi in pericolo di vita. Cambio un controauto oggi poco dopo le 11 a Pianzano di Godega di Sant'Urbano all'altezza dello svincolo per via Bavera. Un'utilitaria condotta da un uomo di 90 anni in direzione Pianzano avrebbe infatti svoltato all'incrocio di via Baver quando in quel momento stava arrivando un furgone condotto da un 34enne. Il conducente del furgone si è visto tagliare la strada definito a sua volta contro una Fiat Panda condotta da un ottantenne. Per lo schianto il furgone ha perso i semiasse e poi è rimasto su una fiancata in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito in maniera grave. Con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario televigiano e vi ricordo come sempre potete ricevere i nostri contenuti gratis e direttamente nei vostri smartphone attraverso la comoda app TG Plus.